Su Rai 2, Rai 3 e su Rai Sport 1 scendono in vista i mondiali di sci alpino. Il Super G, la Super Combinata, la Discisa Libera, il Gigante e lo Slalom Speciale. Dall'8 al 20 febbraio la diretta di tutte le discipline e il streaming su internet per non perdere nemmeno un momento dell'evento club di questo inverno. Dall'8 al 20 febbraio i mondiali di sci alpino di Garnish sono sulle reti Rai.